Arezzo nel 2023 ha incassato oltre 4.200.000 euro in multe sanzioni a carico di privati per violazioni alle norme del Codice della Strada. Il dato emerge dall'analisi realizzata da Facile.it sui dati del SIOPE e il Sistema Informativo delle Operazioni degli Antipubblici. In cima alla graduatoria regionale Firenze, comune capoluogo che ha incassato i maggiori proventi da multe e sanzioni toccando quota 71,8 milioni di euro. A seguire Livorno, Siena e Grosseto chiude invece la classifica che è rara con oltre un milione e mezzo di euro ricavati da multe. Complessivamente nel 2023 i comuni capoluogo Toscani hanno incassato più di 124 milioni di euro. Analizzando il valore pro capite calcolato come rapporto tra proventi e numero di abitanti e residenti, al primo posto si trova ancora Firenze con 198 euro annui per Fiorentino. Il dato a retino invece si attesta a 44 euro nel mezzo della classifica. Guardando infine comuni con meno di 3.000 residenti, in vetta alla classifica si posiziona Campagnatico, provincia di Grosseto, che conta 2.353 abitanti e nel 2023 ha incassato più di 805 mila euro in multe stradali.